Continua il casting per il nuovo reality show di Gallica Multimedial, Stelle della Notte. Ogni sabato al Greenleafs di Porto Recanati si tengono le selezioni dei volti nuovi della zona per partecipare alla trasmissione in onda presto su Sky. I provini stanno andando molto molto bene, i ragazzi sono entusiasti, li vedo sempre più partecipi, più numerosi ma a questo punto che dire, darei quasi un consiglio a questi ragazzi, visto che molti si presentano e noi diamo la possibilità di presentarsi più volte, visto che i casting li effettuiamo più sabati non solo one shot una sola volta, dico loro questo, preparatevi il provino quando vi dico parlate di voi, dovete darmi la caratteristica fondamentale, il vostro valore aggiunto quello che vi differenzia dagli altri, cosa che spesso magari non fate perché vi dite prendetemi, prendetemi, ma dovete voi darmi il motivo per cui io vi dovrei prendere e soprattutto datemi un aneddoto oltre alla caratteristica raccontatemi una cosa divertente della vostra vita che vi connota in particolar modo.